Ragazzi, buongiorno a tutti! Stavo raccogliendo i miei pomodori quando mi sono reso conto di una problematica. Guardate qua! Ecco qua! Marciume apicale. Questo è fondamentalmente, eccolo qui, un marciume che si crea sulla parte bassa del pomodoro. Ho notato che si sviluppa soprattutto sul pomodoro lungo, tipo San Marzano, tipo Perino, eccetera, e sul riccio piccolo, tipo questo qui, è un costoluto fiorentino, e il costoluto fiorentino soffre molto di questa fisiopatia. Attenzione, questa è una fisiopatia, non è una patologia. Vi lascio tra l'altro il link per il video su tutte le fisiopatie dei pomodori, se ve lo siete persi, in cui parlo anche del marciume apicale. Oggi parliamo di questa problematica nello specifico. Il marciume apicale è dato da due fattori fondamentalmente. Uno, secondario, è sbalzo termico e sbalzo idrico, quindi tanto freddo, tanto caldo, tanta acqua, tanto secco, poi magari fa una piovuta, potrebbe essere che si sviluppi questa fisiopatia, ma principalmente è data dalla carenza di calcio. Il calcio è un microelemento contenuto nel terreno, essenziale per il pomodoro e, in caso di carenza, o se il pomodoro non riesce ad assimilarlo, succede questa problematica qui. Il calcio, ragazzi, è una molecola molto molto dura, che si scioglie solo in acqua. Di conseguenza, già il fatto di bagnare poco le piante, se le piante restano in una asciutta per molto tempo, fanno fatica ad assimilare il calcio. Quindi, in primis, proviamo a bagnare di più le nostre piante, in modo da far sciogliere il calcio contenuto nel terreno e fare in modo che riesca ad assimilarlo. Se, in questo modo, anche bagnandole di più, non riusciamo a far sì che questo problema si elimini, potrebbe essere proprio una carenza nel terreno e quindi lo andiamo ad apportare in maniera artificiale, quindi lo apportiamo noi. Possiamo apportarlo o mettendo nel terreno dei gusci di uova, gusci di ostriche, gusci di mollusco, che si trovano anche in consorzio, tra l'altro. Il problema di queste sostanze è che vanno bene per il lungo termine, perché ora che andiamo a far sciogliere un guscio d'uovo, ora che la pianta lo riesce a assimilare, passa del tempo. Se noi abbiamo i pomodori adesso con questo problema, dobbiamo agire subito. Quindi, se lavoriamo in maniera biologica, possiamo utilizzare il calcio magnesio fogliare. Se non lavoriamo in maniera biologica, possiamo utilizzare altri concimi fogliari a base di calcio, oppure possiamo utilizzare il nitrato di calcio al piede, quindi lo mettiamo sulla terra. Spesso vedete magari vicino alle piantagioni di pomodoro dei mucchietti bianchi di concime. Quello potrebbe essere il nitrato di calcio appunto per eliminare questo problema. Quindi, detto che noi lavoriamo in maniera biologica, andiamo a fare il calcio magnesio per la pompa da dare in via fogliare. Quindi, eccolo qua il nostro prodotto. Vi lascio tra l'altro il link del prodotto in descrizione, così potete andare a vedere le specifiche. Etichetta, noi utilizziamo delle orticole in pieno campo. 200-250 grammi per ettolitro in 100 litri, quindi 10 litri sono 25 grammi. Agitare sempre. Sempre, ve lo dico sempre, ve lo ripeto, un terzo di acqua nella pompa quando mettiamo il prodotto. Mettiamo il prodotto nell'acqua e poi andiamo a riempire il tutto. Chiudiamo e andiamo ad emulizzare. Prima però diamogli un'agitata alla pompa. Andiamo a fare trattamenti di calcio magnesio ogni 10-12 giorni su tutta la pianta, anche il fusto. Facciamo circa 4-5 trattamenti all'anno, in modo da andare a eliminare tutte le problematiche legate alla carenza di calcio. Per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetelo nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto dal contadino Nick. Ciao! 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 Grazie a tutti.